Sabato 1 settembre alle 18 avremo la possibilità di fare un viaggio nell'universo di Einstein e questo attraverso lo studio di oggetti come i buchi neri, le stelle dei neutroni e le onde gravitazionali. Tutte predizioni che la teoria formulata da Einstein ha fatto e che poi sono state verificate e che sfortunatamente lui non ha avuto la possibilità di godere perché queste predizioni sono state verificate dopo la sua morte. Se siete interessati ci vediamo sabato pomeriggio al Muse alle 18. Grazie a tutti.